Il 1 marzo 2017, con voto unanime, il Parlamento italiano approvò la proposta di legge che istituisce e riconosce il 21 marzo quale giornata della memoria dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie. Anche quest'anno la città metropolitana di Torino ha aderito alle celebrazioni. Nell'atrio del Palazzo di Costa Inghilterra 7, la città metropolitana ha organizzato un momento di commemorazione delle vittime. Il vice sindaco Jacopo Suppo e i consiglieri metropolitani Sonia Cambursano, Pasquale Mazza e Silvano Costantino hanno letto alcuni dei 1031 nomi delle vittime di mafia in Italia, insieme al consigliere regionale Diego Sarno, in rappresentanza dell'Associazione di Enti Locali, avviso pubblico.